Il Circolo Verico di Santa Margherita è stato fondato nel 1954 da un gruppo di appassionati, principalmente velisti chiaramente, e contemporaneamente è stata fondata la flotta del Tiguglio Star, che per tanto tempo è stata piuttosto numerosa per anni, ha sempre svolto delle regate importanti in diverse classi. Ultimamente ci siamo votati al Dinghi, nel senso che la classe Dinghi è sempre stata molto numerosa, come numero di imbarcazioni in tutto il Tiguglio. Il nostro Circolo ha una grossa tradizione, vantiamo almeno 26 titoli nazionali, quindi abbiamo svolto questa attività nel tempo con degli ottimi risultati. Paolo Viacava è uno tra questi, ne ha vinto 11, Pineo Neto ne ha vinto 10, ultimamente c'è stato Paco Rebaudi con un titolo e Vittorio D'Albertas con due titoli, uno dei quali è l'anno scorso, anzi quest'anno. Noi pensiamo di continuare su questa strada, l'attività nostra è piuttosto intensa, iniziamo con la stagione a maggio con il trofeo Città di Santa Margherita, sempre per Dinghi, successivamente il weekend dopo c'è la Bombola d'Oro, che è una nazionale, sempre per i Dinghi, probabilmente alla più seguita e per frequentazione è equivalente a un campionato italiano perché ci sono mediamente dalle 80 alle 100 imbarcazioni. Viene svolta negli ultimi anni, prima era a Portofino, ultimamente la base è a Santa perché c'è un po' più di spazio ed è organizzata dallo Yacht Club e da noi. Dopo la Bombola inizia a giugno il campionato del Tiguglio, che sono sette giornate, quest'anno abbiamo fatto 14 prove, quindi è andata sempre molto bene e diciamo che queste giornate sono intercalate da altre regate, una di queste è una classica che è la Coppa Tre Porti, poi la Lui e Lei, che è una regata a coppie, successivamente il Non è nipote, che anche questo è un po' una regata che cerca di portare i giovani verso il Dinghi. Oltre 100 i vostri tesserati, insomma, un'attenzione veramente alla promozione della vera come occasione di passione, divertimento, non solo agonismo. Sì, diciamo che il nostro è un circolo sostanzialmente piccolo perché sia come spazi, non è che ne abbiamo un granché, non abbiamo ormeggi e la nostra attività è unicamente velica e sportiva, nel senso che organizziamo molte regate, partecipiamo a regate in collaborazione con altri circoli, in passato c'era il Pirelli che purtroppo non si è più potuto fare per mancanza di sponsor, c'è il campionato invernale organizzato dal comitato dei circoli velici del Tiguglio, quindi partecipiamo noi con la Lega Navale, con le leghe navali di Chiavari, di Sestilevante, di Santa Margherita, Circolo Nautico di Rapallo, insomma, i circoli del Tiguglio partecipano a questa organizzazione. Quindi, voglio dire, i nostri tesserati sono all'80% tutti regatanti, quindi è un circolo attivo nella vela. E l'ultima grande soddisfazione è l'elezione di un vostro socio all'interno del Consiglio federale della vela. Sì, questa per noi è stata una grossa soddisfazione, perché Francesco, che poi è pacco per gli amici Rebaudi, è stato eletto nel Consiglio federale vela, come consigliere per gli atleti. Quindi questo per noi è un motivo d'orgoglio. Un sogno da realizzare come presidente di questo circolo? Guardi, noi non abbiamo grandi ambizioni. Il nostro obiettivo è quello di mantenere questa caratteristica di circolo, voglio dire che è un gruppo di amici che ama andare per mare, fare vela e si diverte così. Quindi grandi ambizioni per altre cose non ne abbiamo, vogliamo divertirci, questo è alla fine lo scopo nostro.